Sette posti, abitabilità generosa e un leggero suono che scandisce la marcia. A bordo del Nissan NV200 Evalia, viaggiare assume un nuovo senso, una dimensione mutevole e dinamica più ecocompatibile. Gli spostamenti appaiono tranquilli, come isolati dai suoni della città lasciati fuori. La spinta del motore elettrico da 80 kW, 167 km di autonomia poi, è costantemente energica, la versatilità degli interni una sigla di distinzione. Le forme ricercate in alcuni punti, avveniristiche in altri, incuriosiscono subito lo sguardo. Il frontale aerodinamico è proteso in avanti, suggerendo la forma di una freccia rotondata. I fianchi sono compatti e arricchiti da curiosi finestrini scorrevoli, il posteriore è voluminoso e impreziosito da gruppi ottici dalla forma elaborata. L'interno poi associa le qualità tipiche di un veicolo cabinato a quelle di una vettura sviluppata per viaggiare. Un mezzo pensato per andare alla scoperta di paesaggi diversi, incontaminati e lussureggianti, che risvegliano quell'istinto primordiale da esploratore, senza sconvolgere con rumori e polveri l'albitat circostante e magari poter fare degli incontri inaspettati prima di inoltrarsi verso nuovi orizzonti, accompagnati sempre da un leggero suono di sottofondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!